Piani d'accumulo, grid trading, trading spot, tutto in DeFi, tutto su rete Ethereum a bassissime commissioni. Questo è un DEX che farà parlare di sé. In un precedente video abbiamo parlato di un DEX che è stato lanciato a dicembre del 2023, quindi recentemente, dopo due o tre anni, se non vado errato, di sviluppi e che promette di posizionarsi come un interessantissimo strumento per poter operare liberamente, fare trading liberamente su rete ETH, direttamente in DeFi, quindi senza dover dare i nostri fondi in custodia a exchange centralizzati, ma appunto direttamente in finanza decentralizzata. Parliamo di un DEX che offre già strumenti interessanti come il classico trading spot, ma anche un'interfaccia grafica del tutto simile a quella degli exchange centralizzati con order book, quindi che ci permette di fare ordini a mercato, ma anche ordini a limite, quindi ci permette realmente di fare trading come se fossimo su Binance, ma in DeFi. Stanno facendo tra l'altro una promo, ne ho già parlato in un video precedente che ti lascio linkato qua sotto, facendo testare i propri prodotti in modo da andare a migliorare poi i propri servizi. E andiamo direttamente a vedere qual è questo test e quali sono questi prodotti che hanno attualmente in scena e quanto pagano per fare la fase di test. Ovviamente per entrare in fase di test c'è una scadenza, una data, i test dureranno a seconda del prodotto che scegliamo 14 o 30 giorni e saranno retribuiti, ma richiede che ovviamente ci sia dall'altra parte un minimo di preparazione nei temi, nei prodotti che andremo ad affrontare. Allora prima di andare a vedere tutti i requisiti andiamo a vedere quali sono i tre prodotti. Abbiamo il trading spot, abbiamo poi il grid trading, quindi il trading a griglia sempre spot e infine abbiamo i DCA, quindi i piani d'accumulo. Per ognuno di questi ci saranno dei premi in USDC reali, USDC reali, cioè verranno accreditati dei fondi sul tuo conto che tu ti potrai poi prelevare e portare dove vuoi. Perché parliamo di DeFi, non parliamo di buoni che danno sugli exchange, parliamo di DEX, quindi un exchange decentralizzato e quindi ci si muove solo con fondi veri, soldi veri. Per quanto riguarda il trading spot, la durata del test è di 30 giorni e il premio è di 200 dollari. Non devi raggiungere degli obiettivi particolari, devi semplicemente soddisfare dei requisiti che tra poco andremo a vedere. Stessa cosa per il grid trading, qua è di 14 giorni e il premio è sempre di 200 USDC e il DCA invece di nuovo 30 giorni e di nuovo sono 200 USDC. Ognuno di questi ha un modulo di registrazione, un modulo Google, un form, quindi ognuno di questi ha un form che va compilato, cioè se tu vuoi fare il trading spot, solo questo, allora compili solo il form di questo entro la data di scadenza. Se tu vuoi fare il trading spot più il grid trading devi compilare questo modulo ma anche questo modulo, altrimenti non riceverai la tua retribuzione alla fine della scadenza dei giorni. Se tu vuoi fare tutti e tre allora farai tutti e tre, quindi dovrai compilare tutti e tre i form con le domande che ti vengono date. Andiamo a vedere i form velocemente e i requisiti. Qui siamo al grid trading. Il grid trading richiede di avere un po' di esperienza nel grid trading, quindi adesso andremo a cliccare il form, anzi magari lo apro già così intanto carica, apri un'altra scheda così vedremo il form che cosa ti chiede. I requisiti sono un investimento iniziale di minimo 2000 dollari, quindi devi aprire una griglia con almeno due K sopra, che siano in quello che vuoi perché puoi aprirla su qualsiasi asset che c'è all'interno della piattaforma, quindi puoi caricare in USDT, poi in USDC, quello che vuoi. La durata è 14 giorni, quindi tu devi mantenere questa griglia attiva per almeno 14 giorni. Sei libero di impostare e aggiustare la tua grid strategy, quindi puoi scegliere la coppia di trading, impostare l'intervallo di prezzo che vuoi, usare una griglia unilaterale se vuoi, puoi anche chiudere, aprire nuove strategie durante il periodo della campagna. L'importante è che il minimo investito siano di 2000 dollari, quindi questo è. Dopo aver soddisfatto con successo questi criteri e dopo essere passati questi giorni, riceverai il tuo bonus di 200 USDC sul tuo account. Potrai prelevare, potrai fare quello che vuoi. L'iscrizione è entro il 5 febbraio e durerà la strategia per 14 giorni, quindi hai tempo ancora per iscriverti. Come ci si scrive? Compilando il form entro il 5 febbraio e facendo poi partire una strategia e tenendola lì attiva per 14 giorni. Andiamo a vedere il form, che cosa ti chiede? Ti chiede semplicemente la tua mail, ti chiede poi perché è un form di Google, il wallet che utilizzi per registrarti su The Gate, caricare uno screenshot di un grid trading attuale o passato che hai fatto, esempio su Pionex, su Kucoin, Bybit, dove vuoi. Poi se l'hai fatto invece in DeFi puoi lasciarlo qua, ma ti consiglio di utilizzare quello che hai fatto su un exchange è più semplice. Chi ti ha introdotto in questo programma, quindi chi ti ha invitato, è solo su invito, ci sono solo 30 posti, quindi qua metti Stefano De Masi, metti il mio nome e cognome. E poi lascia il miglior modo per contattarti, puoi mettere la tua mail, puoi mettere il tuo numero di telefono, quello che vuoi, ma non è obbligatorio. L'importante è che metti questo, perché vedi è alla spunta obbligatoria, e poi aggiungi un file qua e aggiungi il tuo indirizzo. Queste sono le cose importanti. Sarà identica la procedura anche per tutti gli altri progetti, con ovviamente, quindi lo stesso form ma diviso, dovrai compilare, ripeto, ogni form se vuoi partecipare a più di questi airdrop, soddisfando tutti i requisiti. Poi il secondo è il DCA, per fare il DCA devi avere un po' di dimestichezza su come funziona, puoi aprire uno o più piani, devi fare il tuo DCA automatico, deve fare almeno quattro transazioni in un mese, non al giorno, in un mese, quindi vuol dire tu puoi fare un DCA una volta a settimana per un mese, quindi quattro settimane ti sei fatto le tue quattro operazioni, oppure puoi impostarlo in quattro giorni, quindi ogni giorno fammi un'operazione, un acquista, e generare un volume totale di 500 dollari. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai comprato magari 150 dollari a settimana con il tuo bot impostato, 150, 150, 150 per quattro volte, somma totale 500, quindi ok hai soddisfatto il requisito, oppure puoi farlo in quattro giorni, quindi prendi 500 dollari, li spalmi in quattro giorni, e ti vai a prendere il tuo bonus, perché hai fatto il tuo DCA per quattro giorni. Ovviamente anche qui riceverai 200 USDC, e poi devi mantenere un saldo medio giornaliero per un mese di 500 dollari. Cosa vuol dire? Non è che devi fare 500 dollari al giorno, vuol dire che devi avere per la durata di 30 giorni, cioè di 30 giorni, almeno 500 dollari sul tuo account The Gate, fermi lì. Quindi li hai depositati, fai finta, fai quattro operazioni in quattro giorni diversi, di questa cifra qui, ok il tuo saldo deve comunque rimanere almeno di 500 dollari nell'arco del mese. Fini includendo ovviamente tutto, gli ordini, i fondi che sono fermi, il grid trading attivo, tutto, tutto, tutto. Premio, dopo aver soddisfatto i requisiti e dopo il mese riceverai 200 dollari. Anche qui come ci si registra? La scadenza di questo è entro il 15 febbraio, quindi devi registrarti tramite questo form entro il 15 febbraio, e poi la durata del DCA è di un mese. L'ultimo invece è sullo spot trading. Anche in questo caso andiamo a vederci i requisiti. Se sei idoneo a partecipare, se usi limit order o spot trading, quindi a mercato, sul order book exchange, negli ultimi tre mesi hai fatto almeno un ETH, quindi almeno 2300 dollari di volumi. Se hai fatto, hai transato almeno 2300 dollari di volumi su un qualsiasi exchange, da qualsiasi parte, allora puoi partecipare a questo airdrop. Cosa devi fare? Devi fare trading questa volta su ETH, solo su ETH, utilizzando ordine a limiti o ordine a mercato, come vuoi tu. Devono esserci trading in ETH, abbiamo detto, almeno quattro giorni distinti in un mese, su qualsiasi delle coppie, ETH, USDC, ETH, USDT, ETH, USDM, qualsiasi. Quindi devi aver fatto almeno quattro ordini in quattro giorni diversi. Quindi in 30 giorni magari hai fatto un'operazione al mese, magari hai fatto un'operazione il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto giorno. Poi devi avere un saldo medio sul conto di almeno 1000 per l'intero mese. Quindi tu depositi per esempio 1000 dollari, li tieni sul tuo conto, fai il giorno 1 un'operazione ETH, USDT, il giorno 2 una seconda operazione, una terza operazione, una quarta operazione, finite queste, puoi fermarti, ma mantenere i 1000 dollari sul conto per 30 giorni. Dopodiché ricevi il tuo bonus da 200 dollari. Come ci si registra? Stessa dinamica, anche questo scadenza il 5 febbraio, quindi entro il 5 devi aver compilato questo form e aver avviato poi il tuo piano. Mi raccomando, un solo wallet per ogni utente. Quindi tu puoi partecipare a tutti e tre senza problemi, con lo stesso wallet e ottenere il bonus. Come mi muoverò io? Allora abbiamo detto abbiamo tre cose. Abbiamo il trading a griglia che ci dà 200 dollari. Abbiamo poi il trading spot e abbiamo il DCA. Ognuno di questi ci dà 200 dollari, quindi sono 600 dollari totali di premio. Cosa faccio? Allora requisiti. Il trading a griglia deve stare 14 giorni e avere almeno 2k sopra su qualsiasi coppia. Il periodo del trading spot è di 30 giorni e quindi qua abbiamo nessun volume richiesto, se non un k almeno sul bilancio per questi 30 giorni e coppia e TH. Il DCA anche lui 30 giorni, 500 dollari sul bilancio, come abbiamo detto qua, e qualsiasi coppia. Quindi posso fare dove voglio. Che cosa farò? Allora, premesso che con lo stesso wallet io posso partecipare a tutti e tre, mi registrerò a tutti e tre, quindi tutte e tre i form devo compilare, mi raccomando, per forza. Ti mostro una strategia che potresti applicare oggi cos'è? L'1, quindi c'è tempo fino al 5, tu ti registri fino al 5 e quello che puoi fare è questo. Prendi tipo 2100 dollari oppure 2200 dollari, ne carichi meglio averne qualcosina in più sulla piattaforma. Prima cosa, dopo aver depositato, vado a farmi il mio DCA. Quindi mi imposto un DCA di 4 giorni con 130 dollari al giorno in acquisto, di fila. Li faccio di filo, quindi giorno 1, 1 è oggi, l'1, poi c'è il 2, il 3 e il 4. Qui compro 130 dollari, qui compro 130 dollari, qui compro 130 dollari, qui compro 130 dollari. Quindi mi sto facendo il mio DCA su ETH. DCA ETH. In questo modo, in 4 giorni, ho già soddisfatto questi requisiti qua. E devo fare le mie operazioni, quindi le mie 4 operazioni almeno sparse in tutti i 30 giorni. Le ho fatte i primi 4 giorni, quindi questo requisito è soddisfatto. Devo avere almeno 500 dollari sul conto per 30 giorni. Sì, li ho, perché sono qua e ne ho messi 2100, 2200, li lascio là sopra. E quindi soddisfatto il requisito, mi sono preso 200 USDC allo scadere ai 30 giorni. Dopodiché cosa faccio? Ogni giorno, dopo aver fatto il DCI, il DCA, cosa posso fare? Posso andare a scambiare di nuovo per riavere dollari. Quindi dei miei 1, 2, 3, 4, ho comprato ETH qua, 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 li vado a riscambiare per gli USDT, 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 USDT. In questo modo che cosa ho fatto? Ho fatto anche il secondo, ho fatto 4 operazioni, sì, e ho ancora un K totale nel saldo, sì, perché qua ho 2100, 2200, quindi sono a posto. Quindi anche questo è fatto. Ho scambiato ETH, perché ho fatto piano accumulare ETH, ho scambiato ETH per USDT tutti e 4 i giorni, e quindi tac, anche questo è fatto. E anche qui sono 200 dollari. A questo punto cosa ho fatto? Scaduti i 4 giorni, ho di nuovo tutto il mio saldo in dollari, cosa faccio? Avvio il mio, il mio trading a griglia ETH, USDT con i 2K e lo faccio andare per 14 giorni. In questo modo vado a risolvere anche questo. Scaduti i 14 giorni posso chiudere il mio botta a griglia, io mi ritrovo sul conto 2000 a K o se ho perso qualcosina, perché magari ci sono dei DTH in perdita, va a capire, poi ci può stare. Fai finta che mi rimangono 1900 dollari, un esempio. Cosa faccio? Prendo questi, di questi 1900 dollari, qua ne devo avere almeno 1000 sul mio saldo per 30 giorni, per poter soddisfare sia questo che questo. Quindi prenderò 900, me li posso già portare fuori, rimettere sul mio hardware wallet dove voglio. Gli altri 1000 li lascio qui, allo scadere di 30 giorni mi riprendo i 1000 più i 200 e 200-400 e gli altri 200 in realtà li posso già prelevare perché me li danno prima, dopo i 14 giorni. Et voilà. Quindi ho fatto con 2000 dollari tutto questo gioco, ho testato la piattaforma e mi sono preso tutti gli airdrop, li ho sfruttati al massimo. Ovviamente ragazzi è importante comprendere una cosa, è importante comprendere che noi dobbiamo realmente comunque dare un feedback su questa piattaforma. È un exchange che io sto utilizzando adesso e mi sto trovando bene e quindi loro fanno questo airdrop per poter avere informazioni su come ci si trova con questo tipo di servizio in modo da andare a migliorarlo. Ti mostro anche la piattaforma velocemente anche se l'ho già fatta vedere, come puoi vedere è semplicissima, cioè si presenta esattamente come un exchange né più né meno, tu puoi connettere il tuo wallet o Metamask o tramite wallet connect, io per esempio utilizzo Tangem oppure tramite ledger, facilissimo. Quindi puoi tranquillamente operare in modo semplice. Poi hai trade, qua ti scegli le coppie su cui fare trade, come vedi ce ne sono diverse, ce ne sono abbastanza. Da qua quindi puoi piazzarti i tuoi ordini a mercato oppure limite, vedi buy, sell, molto semplice. Le fee sono estremamente basse nonostante sia su ETH, se tu vai a vedere in realtà le fee per ogni trade sono qui. Si parla di 3 centesimi, 4 centesimi, il massimo che puoi raggiungere sono 10 centesimi per ogni operazione. Quindi stiamo parlando di fee veramente basse, basse come un exchange e questo è fighissimo. Grid strategy, come puoi vedere vai a dargli un range, quindi digli per esempio su ETH io voglio operare in un range di prezzo tra i 2.100, puoi mettere automatico se vuoi, oppure puoi dividerlo tu, 2.100, 2.400, quanti USDC vuoi, vuoi partire da ETH, vuoi partire da USDC, tu metti USDC, metti 2.000 e voilà. Quante griglie vuoi fare? Facciamone tipo 10, voglio 10 griglie e qua ti fa vedere le tue griglie, quindi puoi metterle anche larghe se vuoi. E lui ti dice quanto compra per ogni griglia e poi vai avanti, li metti se vuoi anche dopo quanti giorni staccarsi, quindi tu puoi dire guarda spegniti dopo 14 giorni e lui dopo 14 giorni si andrà in automatico a spegnere se vuoi. Quindi molto semplice. Infine il DCA, il DCA anche qui ragazzi, cosa fai? Scegli la frequenza, puoi mettere settimanalmente oppure puoi mettere quando vuoi, tipo un acquisto ogni giorno, un acquisto ogni mese, come vuoi tu, oppure settimanale oppure appunto customizzata. Mettiamo giornaliero, parti subito, quanto vuoi comprare per ogni ordine, mettiamo 130 abbiamo detto e voilà, inizia. Quello che voglio farti vedere qua, end time, tu puoi dirgli anche quando smettere, fino al 4 di febbraio, ecco qua. Tu metti un giornaliero qui così, in realtà fino al 5, ecco qua. Ti ha fatto 4 ordini, 520 dollari e qui hai soddisfatto anche quella soluzione lì. Come vedi la gas fee per ogni trade, per ogni acquisto è di 0.035 centesimi. Cioè di commissioni paghi 3 per 4, 12 centesimi. Ok? Cioè stiamo parlando di queste fieco perché dico che è estremamente interessante. A questo punto la sicurezza. In tanti mi avete chiesto di parlare della sicurezza. Allora io vi giro un file, questo qua, su come funziona The Gate, che è estremamente sicuro. Prova a utilizzare quello che si chiama lo ZK roll up, quindi lo zero knowledge roll up, che utilizza operazioni off chain che poi vengono portate su smart contract on chain. E questo permette di avere una sicurezza in più sui fondi. Qua c'è tutta la spiegazione di come funziona. E anche qua ecco il meccanismo del roll up, come funziona. Risposta alla domanda semplice. Sono al sicuro i miei soldi? Sì, sono al sicuro. On The Gate, users' assets are non custodial. Quindi non sono custoditi da terza parte, non sono custoditi da The Gate, da nessuno. Perché è un DEX, basato su smart contract, interamente auditati. Sono stored in immutable on chain smart contract. Quindi i fondi vanno a finire in smart contract immutabili on chain. Questo, questa immutabilità del protocollo, impedisce e ci assicura che nessuno può manipolare o rubare i nostri asset. Quindi siamo assolutamente tranquilli. Poi il mio account balance è corretto, non può magari esserci che ne vedo di più, ne vedo di meno. No, perché tutto dipende appunto dai data all'interno dello ZK roll up. Posso prelevare in qualsiasi momento? Assolutamente sì, tramite l'Exodus mod, che è un smart contract che ci permette appunto, che è spiegato poi comunque nel dettaglio qui, di prelevare in qualsiasi momento. Cioè questo è quello che succede. Tutto il sito, il sistema di trading, gli operatori, il circuito, la sincronizzazione chain, il Merkle Tree, Postman, sono tutti off chain. Quindi è tutto fuori dalla chain. Noi ci interfacciamo qua, fuori chain, e tutto viene roll upato in smart contract su EVM, su ETH, layer 1, direttamente. E questo ci permette di avere un grado di sicurezza estremamente elevato. Poi, ultima cosa per andare a comprendere meglio la sicurezza è qua. L2Bit è uno strumento che utilizzo molto per andare ad analizzare soprattutto i DEX, gli exchange decentralizzati, per capire il loro grado appunto di rischio. Perché è una piattaforma terza che va ad analizzare i protocolli e ci va a dare un, eccolo qua, una soglia di rischio. Come vedi abbiamo Arbitrum, che è qui. Hop Minet, Manta, Base. Cioè ce ne sono tanti. Come vedi ci sono un po' di rossi ovunque, che non sono proprio il massimo. Polygon, ce ne sono un sacco. Se andiamo su The Gate vediamo che è veramente top, cioè non ha rossi cose. Tu puoi prelevare quando ti pare. Sei su layer 1, ed è forzato via layer 1 il sequencer failure. Exit window 30 giorni, quindi qualsiasi problema ci sia tu hai 30 giorni comunque per uscire con i tuoi fondi, per fare quello che ti pare. Cosa che gli altri, vedi, hanno dei tempi molto più stretti. Data Availability, Onchain, nel caso di The Gate siamo Onchain, quindi tutti i dati, tutte le data, tutte le informazioni, tutte le transazioni sono tutte ospitate e visibili Onchain, quindi full transparent. The Gate, ZK proof e qua ti spiega tutte le varie cose. Voglio mostrarti infine, se io vado nella Home, nel sommario, tutti questi punti vengono espressi così. Quando tu vedi che c'è del rosso, sono dei punti non proprio top, che sarebbero da ottimizzare. Quando vedi il verde sono perfetti, quando vedi il giallo una via di mezzo. Se scorriamo, vediamo un po' di casini. Arriviamo a The Gate. Guarda The Gate. Come puoi vedere, The Gate è full verde. Ci troviamo intanto a 58 milioni di TVL, è aumentato un sacco, perché sta comunque facendo anche questa promo qui. Però come possiamo vedere è full verde. È uno dei DEX, se andiamo a muoverci ancora qua, più sicuri. Quindi a livello sicurezza siamo estremamente sicuri nell'operare con The Gate. Ovviamente bisogna essere sempre prudenti, cauti, certo, chiaro, non possiamo avere la sicurezza del 100%. Anche Curve era stata hackerata, anche i principali DEX sono stati hackerati. Però ragazzi, stiamo parlando comunque di un qualcosa che è ultra auditato per come è stato strutturato a livello smart contract. Qua sotto ti ricordo, ti lascio tutti i link. Se vuoi partecipare a tutte e tre, di compilare tutti e tre i form. Se vuoi partecipare a uno solo, compila solo uno. Comunque qua sotto tu hai tutto. Mi raccomando, ricordati di mettere il mio nome e cognome, perché altrimenti non ti fanno partecipare al test, perché è una cosa che ci stanno riservando in questo momento per 30 persone che mi seguono qua sul canale. Il premio è di 600 dollari complessivo, 200 per ogni task completata. Ti lascio anche il link dell'exchange, del DEX, così puoi andare chiaramente a vederlo e fare tutto ciò che ti serve. Per ora ti ringrazio per essere stato qui con me e ci vediamo nel prossimo video.